ciao a tutti fa caldissimo invito anche Diego ha iniziato no non ancora deve esserci Diego si ciao Diego ah vi sento comunque la live già iniziata ah bene allora salva a tutti i palletti salva a tutti i palletti salva a tutti i palletti che belle cose che sono nel negozio c'è un bel gelatino lo so io comunque la colazione tu l'hai visto la gelatina? si e se ti prendo il gelatino ma secondo raga secondo voi mi conviene tenere Vibac o prendere qualcosa adesso il gelatino no il gelatino oppure aspetta come si chiama Goku Goku si Goku ok ragazzi facciamo delle belle partitone va bene ok mettete pronti piccolini Diego mi ha accettato il codice Marcus quale codice? sul negozio è presente che c'è il codice creatore? eh? mi ha accettato il codice Marcus come? fammi provare un secondo che poi lo tolgo subito ma è tutto minuscolo o grande? è minuscolo io ho messo Marcus Zaccus aspetta siamo andati partiti e non sono riuscito a metterlo Marcus Zaccus ma come si chiama Marcus Vortnett? Marcus Zaccus fra poco io riesco a sbloccare Sabino cosa? e nuova si prende in mano no sto parlando da solo perché a volte parla da solo sono un po' stupido sai che bello fare una partita da un dog con un amico dog raga andiamo a pinnacoli ok? no pinnacoli dai pinnacoli no sono scelte per sbaglio se volete scelte per andare fate l'infetto ok la andiamo a pinnacoli? ma andiamo a pinnacoli raga raga a me mi stanno parlando qualcuno si Diego dove stiamo andando a chi è che ha portato io? non garantiti consultare le condizioni del servizio di ordinaria amministrazione no andiamo con anche me sta parlando qualcuno vabbè Diego io ti seguo mi vendrà la città bingata raga anche voi avete sentito parlare? cosa? avete sentito anche voi una voce? si guarda già sul tetto Diego cosa? già sul tetto chi? qua c'è uno lo vedi? ah si no mi sa che è da batman è batman lo andiamo a prendere in due? eh io non ho armi e neanche io io ne ho due ma poi ti è preso di mira? eh? ah poi ti sparano? si no apolo 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 tranquilli apollini ce la facciamo adesso apolo 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 no ma perché è sbagliato via andiamo via di qua prendi no fate questo fate questi tanti fattoli vabbè no non la lancia un maniquet serve un'arma io c'ho un giocchino lo dovrò usare da vicino eccomi raga oh per fortuna ma oh prendi questo oh capo vuoi della mia vita voglio questo ah bello fratello e lo pago pure 100 lingotte ciao elfo chi vuole mini chi vuole un mini lo butta giù dalla finestra ma quante belle persone c'è là apolo no 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 apolo apolo ci sei ma il muore mi hai detto apolo ci sei apolo non lo so chi è ecco te non lo so apolo ci sei no 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 diego ale 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 costrucci siamo sotto sopra la montagna sopra la no si però ma non mi fa costruire e allora prendici non mi fregatene ho sbagliato io no tranquilla porta mo e ritroviamo il lobo si un gabbè mi ha sbloccato un nuovo dorso decorativo nuovo nuovo gelato c'ho eh anche io anch'io io me la seleziono lo voglio lo voglio mi piace di più chi è anch'io anch'io è più bello di questo doghino di quattro soldi eh l'incarico è bellissima no ci sono gli stili fighissimi guarda che bella faccina che ha che bello ragazzi ci sono gli incarichi per cambiarla eh sì che ci sono che se lo so guarda gli altri stili ma è fighissimi sono fighissimi gli altri stili c'è il gatto c'è il mio ascolo c'è la banana la bananita il pesce un nuovo guf guf no raga famiglia gesti carichi che faccia intanto io metto pronto vediamo adesso è stato di ordine riscuoti il quartiere fatemi leggere un attimo gli incarichi ecco qua per sbloccare la bananita da dove lo vedi fra? completo tre incarichi estate di ordine cosa vuol dire ad accogliere un cartello senza stress? non lo so eh io mi so eh Alex tu sai qualcosa che vuol dire accogliere un cartello senza stress? guarda mette raga cerco su youtube come fare questa missione no dove c'è il santuario te lo dici se ci premi ti fa vedere la mappa dove sono devi schiacciare meno dai giochi da fuori da switch giusto? e dove andiamo? lo decidi tu quello di mi ascolo eh io voglio quello di mi ascolo andiamo qua raga no 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 ok raga dove andiamo? si si andiamo là andiamo là al ping ping viola raga ping viola l'hai messo in comune dai raga io voglio ciao elfo io voglio quello di mi ascolo madonna sono tutti bellissimi ciao a tutti raga come va elfo? a tu che stai giocando elfo? elfo mi sa che dovrei cambiare il tuo nome da oggi ti dovrei chiamare polletto ah polletto guarda che bello l'azionetto guarda che bello guarda Alex anche tu ce l'hai aspetta però a quello ci sei ma da pure la skin da pure la skin raga come? da la skin aspetta non lo so appunto forse da anche la skin quanti secondi mancano che io sto mettendo il ping non siamo ancora partiti ok messo nel punto che pizzo aspetta ma si può sbloccare un balletto e un deltaplano che però un ombrello che a quello non piace si può sbloccare qualcosa no però l'ombrello è bello si può sbloccare una scena di caduta credo uno zaino credo e un piccone e io credo anche la skin credo no non ho detto che si la skin no la skin se fai proprio delle missioni no no non c'è la skin no ma ti pensa che ti danno una skin gratis le hanno date eh sì ma adesso non le danno più solo che maledetto oh raga ping ross ping rossi ma stiamo andando per la pistola di masco vero? anche comunque si fra si raga mi escono al ping rosso a pollo scende al ping rosso ok? va bene a quello rosso e non a quello blu ecco a quello rosso blu no al blu andiamo dopo magari e al blu andiamo dopo 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 io quando faccio il live divento una cenetta perfetta per le zanzare dai che fastidio ok mi sembra il ping rosso non mi sembra tanto un ping rosso è rosetto ok sono con una gente che è un armac un armac blu fatemi controllare bene oh la popola con la granata c'è una pompa oro grande come pompa oro no non ce l'ho più non ce l'ho no pompa oro c'è un armac no quello che si che è una fortuna quando è un tizio boom 50 l'interessa hai sentito vero ho non raga nessuno con una raga eh pappè perché sono separati addio a mezzanetta e sono finiscono pure ma perché questa cosa ma 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 però per i colpi il gelato fra la mia scritta scusa dove sei dove sei tu hai preso il nuovo ci sono nemici alex e poi invece il nostro ancora questa la scheda non è non la vedo ma come pigliata ecco 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 giro ma quello non player non attaccare non attaccare solo se ti attacca attaccano ecco non attaccare no non è personale ora lo vedi il coso pigliato nella mappa il più vicino e vai verso quello al suo momento potesse dare una mano non so forse qualcuno lo vieto per la mano ma se sto andando via dalla città ma non mi sono davvero ballerina apollo apollo si è sbagliata non lo ascrive le tg vabbè apollo perché apollo cappa subito che arriva il suo compagno cappa fregatene gli dira una piaccinata adesso apollo ci sei dov'è cappa cappa scopo guarda dove dico il cerchio blu nella mini mappa vieni qua se vai la aspetta da balex vai la cabella tutte le vostre armi io invece sono morto un po' blu se ci sono tutte resto con una pistoletta ma no arrivo ci sono nemici appolo 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 una mano ma sei tutta la vita te la do io quando ero ho 133 ho 133 rosa qua non so come riescono ok vai alas vai alas aiuto fra sono quasi un po' seguimi fra dove è la casa dove avete ammazzati tutti no mamma toglile per fuori le ho trovate su un cuore che belle che belle sono belle no cosa fai ecco l'altro sono dietro di lui sta arrivando da voi dai scusate non c'è ma questo questo è di rizzo ma si ma quello c'era ma dove vai avevo pochissimo dalla finestra la finestra la finestra la 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 trucchi che mi ha insegnato un ragazzo arriva che rompi il palle che sei di rola cosa scusa scusa tieni tieni il pombo leggendario con la polpa no che cosa ho fatto la mia pensavo di avere preso io le splash aspetta come avevo le facce poi un buon attimo il cucello un attimo io per sbagliare ma io ho tre colpi del pompa come faccio il cuore ce n'è uno blu dice la licendario in sustituibile ok fuuu piccolo di mamma sicuro in player si ok ah si no sto mio leggo il piccone per un studiamo colpe oh cos'è ma cosa che sarà va ho un cuore fatto fuori io ho trovato un cuore un gelato queste servono un pochino diciamo ma qualcosa cosa fanno allora diego mi senti diego diego si ti sento ah se ecco ti ecco eh scusa non ti sentivo allora i coni gelati li puoi mangiare anche se non evita però ti danno comunque vita ma ci danno anche scelto è probabile non lo so non lo so fraga si guarda noi eravamo qua venuti per la missione del miascolo sarebbe qua ci sono le colpe di fucile giusto giusto dalla missione del miascolo si è ritornata siamo venuti guarda e pinda rosso cioè le licenze sono dimenticati no andiamo più in rosso andiamo no ragazzi non è in safe e vabbè intanto lo sei fa arriva tra un po' è anche lunga ok 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 ho il bel me di nebbia ok ma cosa dobbiamo fare con la missione di nascolo dobbiamo tirare su qualcosa no dobbiamo prendere un cartellone senza stress ma che vuol dire ma sotto fammela leggere raccoglie un cartellone senza stress cartellone senza stress ma raccoglie 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 hai sbloccato? aspettate dove? ah ma dove? qua da noi c'è ancora una ma l'abbiamo sbloccato? la bottiglietta d'acqua dove c'è Apollo? ah adesso Apollo deve portare un posto da sponsorizzare Apollo dov'è? Apollo dov'è? aspetta no quello è sbagliato Apollo dov'è? no è tenuto a terra Apollo dov'è il cartellone antistresso? vai qua vieni ma adesso lo dobbiamo portare a un punto di di sponsorizzazione tu sai cos'è? è qua 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 sotto vieni Diego qui dove sono io vieni l'avete sbloccato? sono quei punti sulla mappa vienicene uno qui così l'avete sbloccato? si io l'ho messo anch'io no come avete fatto? eh guarda sulla mappa sono messi dei punti sulla spiaggia eh lo vedo anch'io ma come? si l'ho sbloccato! ok l'ho messo si si piascolo grande ora ragazzi usate tutte queste jump e aprite in vita appena subito e andiamo in safe ok? tra loro via si che ci fa andare un bel po' avanti no poi l'ho sbagliato direzione no no sono dietro di te no è Alex si io ho sbagliato direzione scusate ah scusate ah scusate io... io sono vittura con la pollo con il rosso bravo Nick questo è un'altra azione success perchè io mi sono rotto il cazzo in quel gioco finalmente un bel miascolo che è anche questo che ho bello però miascolo mi lo voglio è più bello eh il leone si va a dormire sparo no no è il lupetto il lupetto che dice il lupetto mi ha fatto danno ma io lo ha cavalcato sparo no a livello l'amore arrivano a livello buon corno di lato spirito un'atterrata ragazze rimane il terzo come il senso non ci vorrei morire io l'altro no non basta con te lì ne ho detto che ho fatto dire ci sono stato per più di un quarto cos'è quello barone tante per me io vado a sbacciono tutte le persone non lo so io vado il lupo non ho detto fermo 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 un pollo sotto sopra il cinghialza file su aspetta pollo ok bravo ora devi fare come camminare andiamo andiamo più lento perchè cosa sarebbe da alex tu seguimi ok l'hai fatto ho preso lei il drop no sei tu che mi colpisce con le corna però non mi fai dando guardiamo guardiamo dentro pollo seguimi col cinghiale il problema è che ora faccio live va bene ma oggi non gioco a bisaccio ho deciso cos'è a bisaccio è un gioco a ruolo la live di lonti un po' e poi mi ha portato spieghi non pesce l'ora che arrivi perchè te giochi di sera ok raga bovine brulla un po' di nemici è certo è certo sono anche grande se a noi non sarà tutto il giorno guardare forno non vogliono esperienza dei giochi ora oh ma tipo questo tutti adesso ci vedrà te ne sopra dovrà rubare nonostante certo sono qua bello come se spio no rubato io odio alice grazie ok però io dove pensare come si può un nemico ora sentire non usare toccare il mio lupo nemico sentinella sentirella ecco con la legge attaccata prima di noi uo io mi so che c'è chi non c'è chi non lo vedevo e ha visto provando c'è chi hallo sul suono 3 morto ma basta una persona vai cisa dietro dietro ah ti ho visto ah io però mi sono pure oh atterrato per una volta l'uccidere oh guarda che siamo estremendo un file attento ecco te Alex 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 tanto attento ce ne sono un sacco che no ma non è giusto io mi stai perché c'è stato sto robando un ciclo ma basta non ci sono più robin sei perché siamo on fire siamo on fire ecco questo questo è quello che è atterrato siamo on fire tranquillo è un paio non morto la polo che è atterrato ok la polo è stato bravo dove sei e vai a roba il suo sito di prima con il furgoncino strano e io sono morto dobbiamo andare con il furgoncino è vero non ti ho raccolto sì mi raccolto mi raccolto Alex e c'è anche tu tutte le mie non me l'avete preso un po' gli hanno preso i nemici Alex le pese tu vero aspetta ecco ti prea anche le pese tu eh però almeno i meri dai Alex arriva è fatto si si tranquillo tranquillo non ti preoccupare di Alex l'importante è di non preoccuparsi di Diego che adesso non ha niente che le mie l'armi me le dai no no si sono mie ma sono mie eh però ci sei si vai 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 signor vai 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 e siamo un fire e siamo un fire e pure mi ascolò e siamo un fire ma tu si ritornello a piccoli un'altra partita e siamo un fire e siamo un fire e siamo un fire bella bella vittoria grande grande siamo un fire qua abbiamo sblocato il mondo si però veramente abbiamo sbloccato il mondo veramente u 10 stelline bene uuu proprio quello che mi serviva per sbloccare cosa? mi ascolò me lo equipaggio subito anch'io ah ciao Tom su non può parlarvelo vabbè ragazzi mettiamo pronto bellissima Sabina vabbè ragazzi sblocchiamo un altro di dietro ovviamente nuova pagina sbloccata raga ragazzi sblocchiamo il baronito la bibita baronito si 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 ok per sbloccare dobbiamo completare un incarico ordina amministrazione quindi dobbiamo completare un altro incarico di estate vediamo arrivo subito arrivo subito ah scusate non avevo messo pronto Alex hai qualche incarico di estate oltre a quello della bananita perchè dovevo fare tre incariche non è proprio fatti solo due non lo so nooo a parte quello della bananita il carico ricostruzione il quartiere che vuol dire sopravvivi no io proprio quella della bananita non ce l'ho ma anch'io voglio ma io quello della bananita non ce l'ho sì ma ci sono anche 100 cose dopo vedere eccomi cosa dobbiamo fare come incarico nessuno perché io non c'ho niente no i altri escono dopo quando dopo domani domani fino a me domani mi escono altri due per forza oh però questo piasco è davvero bello pinnacoli stavolta pinnacoli 1 c'è che ho già fatto pinnacoli ma va bene te ne strana è pinnacoli facciamo rabe strane grazie autista ma è fighissimo no che schifo no non sono sceso mi sono addormentato addormentato in che senso no tu sei mi sono distratto siamo on fire adesso pure con tommaso no no ho proprio un fire si è un altro dog raga da pollo salvato io sono sull'orologio devo scendere per forza dove l'apollo però non riesco ad arrivare sul suo tetto sto scendere che sto scendendo che è successo no ragazzi si è un'altra sull'orologo la volta non riesco la posto ma è detto ti faccio ma la costa ma c'è per la cacca capirò non c'è così era scusate devo dire una cosa ma gli faccio il culo sto qua ma d'occhi dove 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 è raccomando i morti con la corona sarà adesso che cavolo e poi però io dovevo morire appena con il posto peggiore ma porto ti faccio il culo e ti faccio il culo ok uno gliel'ho già fatto vai ragazzi ho fatto il culo a tutte e due avete visto gli ho fatto il culo vabbè io dovevo fare il culo a Naruto ma non l'ho fatto devo curarmi per farlo se no non riesco e muoreci le bombe ballerine l'ho detto la partita scorsa e allora non ho ascoltato io ma te pensi di essere pilla lo sai che ci sono anch'io con chi sto parlando non con voi sto parlando con quello qua mi inizia fuori l'ho fatto raga ma qualcuno ci va che sarà una pollo cosa sto facendo ma c'è un pollo no no c'è un altro tranquillo no la mia sta scadendo c'è per tutto non l'avete presa la mia appunto eh fate fate ma la mia non la prendete è ancora lassù quello di Diego Vene cioè grazie c'è proprio le persone più intelligenti del mondo come te le vengo a riprendere ah si siamo morti in due prendiamola una scherina come ti resto l'hai ripresa si l'hai ripresa si no mi sono fatto malissimo ok magari resta adesso andiamo amici il nemico ha preso la corona allora è vero ci sono ancora corona pinnacoli ah no cavolo è scholarico ma perché mi va tutto lì se prendete la corona l'insieme non è più rosso avete colpi pompa pollo hai colpi pompa eh si ma dò c'era sono state qui l'ultima scenda è prima a morire questo pure la corona ce l'hanno tutti tranne ma io adesso facciamo il culo a quelli che ce l'hanno a pillacoli due due minuti fa ce ne erano tipo 100 ce ne erano tre vabbè c'è anche un modo di dire so nessuno che è stato siete stati voi ok siete stati voi per me non è un problema è fratello fratello ma sei matto c'è ragazzo sembra con il sex dai vabbè fratello si fratello se sono d'oporto lì avete un medichetto delle vendie no cos'è stato siete voi vero no ok dobbiamo proteggere a me ma perché infatti hai una sfida almeno ho un rift eh sono questo qua piccolo per me per ora non c'è nessuno via tranquillo ma in realtà però non c'è nessuno eh mi lascio due no 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 non posso ci sono le dice arrivo aspetta devo spiegarti ma poi lo sai da me sono sopra di te cassa leggendario salire pollo aspetta pollo 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 eh bravo appena uh gelati no gelati adesso pollo te ne dà uno una a testa raga ma adesso ora siamo attaccati da save ragazzi tu ti sale da me qua tommy ok niente se hai non male c'è un po' di nebbio alex l'ho ci sai ah ok qua c'è un guantanampino speriamo che ce ne sono tre bene cavolo nemico dov'è ci sono tre a pollo li ho vistati quando è uno dura poco non ho partito no aspetta bene 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 si ok ok si quante kilo avete raga zero apollo zero ok bene perché tu io quattro e invece l'altro aiutami cosa portami fortuna mi sentite si temici qua ok livello per fortuna vediamo se ti becco mi ha fatto un'altra raga ucciso non vi preoccupate un'altra rama se ancora minaccio io te lo parassi minaccia serie allontanatevi allora ma no no è da solo da te se tu vicino alla intanto sono la b appunto lancio questo che avversario ma dove vai ho pochissima vita raga ho pochissima vita io ho 9 kill vai a zero dico aiuto ho 23 di vita se mi piace un cavolo io sono 8 cavoli no sta morendo alex si vabbè ciao ma ci sono amici devo andare ciao questo raga questi cavoli sono sono bella divini cioè un cavolo cura per tutta la vita un cavolo tutta la vita cura quindi sento un uccello viola dai muori dai stai di satana no ho sentito nemici se venite da me forse ci stanno nemici io vorrei un po' combattere sotto il rumore di un corvo aspetta aspetta oh bravo l'avevo ucciso il corvo si a pollo la vuoi tu l'arma no hai mai trovato sicuro è il suo possibile preferito vai 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 va bene grazie un altro corvo ma niente normale vi serve un flop per munizioni si andiamo in auto noi chi ha il guanto rampino vabbè ma così non lo sfruichiamo vabbè io a pinnacoli ho fatto 5 kill se lo andiamo a pushare è meglio aspetta oh si ho tolato io l'ho prima kill c'è un altro a sinistra oh c'è un altro a sinistra l'altro a sinistra c'è un altro eccolo c'è uno c'è uno io vado all'attacco no ma la fattoria si uno mi sa uh c'è la granata ok non è stata una politica mangiare sto gelato eh no i piedi congelati scivolo troppo ah non è l'aglio nemici molto cattivi ok si è rotto nemici molto cattivi aiutatemi arrivo 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 come c'è chi lo doro prendilo prendilo dai bestia di satana c'è qua un brutto nemico sono da te io mi sto curando se qualcuno mi può proteggere sono qua sono qua ma lei mica con la casetta in alto no no l'ho visto che andava a me si è fatto un box poi non so se se andiamo a vedere no no meglio vabbè c'è un minuto appolo ti interessa a me non mi interessa poi appolo c'è ancora il cecchino blu super figo con la che sta ancora d'oro questo ah c'è d'oro e allora volete rischiare si volete perdere la colonna si ma io ce l'ho oh eh allora la perdiamo così ma spera la corona di Alex ma ragazzi dov'è la corona di Alex è vero ah ma sono sono un botto ma sono tutti play se non si vede che sono bello hanno fatto oh ma non lo riesco ok io ho fatto 53 blu a quello che corre la gabbia mi avvicino cavolo un botto ho preso eh vero che ci sono anche botto vai raga vai no ho preso ho preso mi dà occhio occhio non è stato mi non è stato mi sono stati a combattere il trumento eh vabbè mi sa che qua vabbè mi ha ferito quello sottoscare lascordi 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 sottosca estremo silenzio silenzio è veloce 1 no 3 di tutti forse la pola pola polo se non c'è la scelta e vabbè ma da si le reciti tutti dai a polo no no dai vieni madonna sto scappando uno l'ho intravisto stava scappando guarda polo stiamo sudando io l'ho visto uno dietro di te che stava scappando io e i cavoli ci sono un sacco di robe qua no io devo andare a salvare a polo non devono restare nessuno no te non andai a rester no 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 vabbè sono contro squadre da 4 però siamo in 2 Diego dai mancano veramente pochi stai attaccando dovremo andare assieme Diego Diego io voglio provare si piacciono lo vinciamo per te ecco Diego Diego sta attaccato a Tommy fidati si sei pronto? oddio che paura si era fermato Diego? Diego? dai vai mi aspetta mi sto girando la vita eccolo eccoli eccoli Diego davanti a voi come eccoli ah nooo perchè ma mi metti le scali davanti scusa nooo io muoio le safe mi giuro che ho muoio le safe no mi si scaricato il guardo proprio ora dai dai ricaricati ricaricati in fretta merito nooo troppo il safe nooo c'è i 9 di vita dietro c'è i 9 di vita ehm se morito mi permetterete comunque cura 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 perfetto molti nemici bene perchè io mi devo curare corona dov'è cura 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 c'è una corona c'è una corona vieni please please scongiuno diego diego dai c'è uno qua sta perlaessandro vieni sta dentro la casa grazie bravo diego bravo dai la corona non la posso più prendere no che pezzo che hai fatto diego fantastico bellissima questa partita bravissimo bellissima 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 partita che cosa la coro la coro ah no ce l'avete ah si ce l'abbiamo tutti si perchè abbiamo fatto la vittoria e se facciamo volete fare sempre no almeno non rischiamo di nuovo madonna abbiamo fatto cioè abbiamo giocato bene sta partita eh sì benissimo 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 due contro squadra da team ce l'abbiamo fatta lo stesso vabbè siamo forti noi vabbè siamo forti noi Apollo metti pronto mi sa che non ci sento mi sa che non ci sento oh no 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 non ci sento mi sa no oh si aspetta Apollo non c'è se si è metto di partire e lui non l'aveva pronto no 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 l'ha messo ah voglio vedere quante colore ho io ne ho tipo tredici o dodici madonna abbiaccio a te io ce ne ho meno di dieci ok vera vediamo quante vuole domanda se noi cinque facciamo casino se siamo in serici in questa modalità cosa cavolo facciamo succede malata in più Inc sarà un labyrinth rebuild e si dovrà desertare ogni secondo ci metti a caricare sì ma donna abbiamo passato all'inferno io avevo 9 di vita abbiamo passato le pene dell'inferno la partita di prima era la miglior partita che ho mai fatto comunque il dorso di mosca è davvero carino quello tu hai selezionato quello blu o quello di miacolo io quello di miacolo anche io l'ultimo l'ultimo che vi ho sbloccato mi sa che mi ha sbloccato pillola 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 ma che bella la pillola ma che bella la pillola oh la pillola 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 la 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 pillola ahahah oh no 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 che sa che sono morto fra un po' sì sì per 5 minuti sarà morto nooo aio dove siete ehm hey ma dove state oh no ma chi è questo ma chi è questo dai che lo faccio nooo ma dove state io ancora non ho fatto una kill possiamo incontrarci 48 possiamo venire tutti qua sotto e sennò a io avevate tutti poca vita non so chi sto sono b a me non mi uccidete io cambio al posto dello scarmi prendo una pistola silenziata a me le pistole mi piacciono a voi come ti piacciono a sofforti il capito mai un pompa vabbè sì quello si ma le pistole sono mirata costruzioni il proprio mi ha detto che è duro che è stessa ma che è andato così in alto io sono che però sono caduto ah 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 sta risalendo oh no allora quindi voi cecchinate non vale far cadere ok sì certo io adoro il cecchino è una delle varie preferite pure le mie dopo il pompa oh dove sei piccola foglia ti voglio tanto tu sei junior junior non può passare junior è troppo infelice ma che sui junior vista che distruggerà le tabelle costruzioni giugno è cattivo molto meschino distruggere anche le scale che è costruito io che sono e sono un micchia no sono rincascato ma che un po' più cascare ma casco sempre e non so chi cascare mi sta prendendo mi sta prendendo io sono caduto ma quello è ragione fino a un documento ma se tutti tutti scambiatori da io sono caduto ah 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 ma chi è ancora sopra 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 c'è un addobbio apple perché io sono sotto le scale che sono stanno correntino agli roste vedermi ho preso tutto soppostato attraverso e ti vorrei amare ma fai ragazzi e pagherai per una vita e tommaso non riderebbe per vedere la sconfitta di tommaso io vado alle spalle sono un infame davvero tanto faccio a la vita quale sè c'è sarò da qui come te nah 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 nero nah nero 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 nei d'è nero deciso due volte qui cos'è poi io cambio a casa eppure io da poter un sospetto e ti vorrei amare per una vita come una bugia e ti vorrei amare ma io prendo il charge una ferma più schifosa il charge è la più forte come se tutto procede ma ti vorrei amare ma sbaglio sempre anche in questa vita io cancellerei questo gioco perché non mi fa roma costruzioni per sé di succedo se succedo vada su un superatore diciamo che già busta mutire stavolta e se sono poi no sono creduto da riscare compirlo non sapevate mi chiamo jackson e ho deciso alle spalle con il cerchino ti piace un paparino 42 42 uccidetevi alle spalle non 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 ok ragazzi che vuole un bel abbraccio cucurato da un filo non vuoi tu vero lupino no lo vuoi tu volete dire no e pagherei per avere solo la bugia e ti vorrei amare ma se uno d'occhio e io io dog e li mangia colazione scurati di patatone così smetti di cantare una vita dove tommaso non sa giocare tommaso l'ha distrutto ma io non l'ho distrutta si è distrutta no no sei che in mezzo a quella casetta c'era un buco e la casetta che ne va le scale e tu l'hai distrutta no ma basta dai basta tommaso ma cosa non sto facendo niente ma guardate per un pizzolo basta distruttermi ok non sono da per te ma fa a volte non si spero di anche viva ora io amore ma se vuoi mi faccio uccidere o il terrio è visto c'è chi rende dalle altre alpi no il filato da un dottore non le rai non può distrutta la descrizione io sto salendo solo con il rampino aia appollo ma te li sto beccando no dai perché appollo va bene va bene va bene va bene anzi io vi vedo almeno un uccidio e ti metto qua ma ti ho colpito una santa a volte no è appollo è il mio cuci è il mio appollo giulio è il mio appollo giulio ehi au quanta vita hai? 22 mi sto facendo un fight quindi se io ti do una picconata hai due di vita? dai dai io sto fightando ok aio mi ha preso a me ha po' l'hai preso lui oh dai no l'ho sfriato l'ho sfriato non ci credo è tipo 2 di vita po' no sono morto no son ancora c'è chi io adesso ho conquistato le alpi perché fai cagare ti lascio sto io guarderò sulle alti che sulle api la più sono che roba innocuo super innocuo e non ci troverai proprio nessuno infatti non troverò nessuno che la struna dog da fare il rosto fregato non fa le spalle e scrisciano fami ma se tagliamoci ma l'hai città delle alzate cattivo guarda quel piccolo bimbo mi chiamano giugno solo video basso caduta la strada ci sta giocando a streghe spiego come ragazze streghe gioco quello del gatto che va in giro sulle praterie o no sulle alpino non fatemi cascare che bello appoggiare il mio miglior amico che non è neanche un amico ma un ex amico io quelli che trovo in giro ma dai non ci credo babush basta con il ti mostrerò il mio babush babush lo faccio io babush babush mi faccio un bumbush come sono il bab come sono il bab ok is a you are grinch ahio no 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 fermo ok ok easy easy I'm squeezy ahio è tutto più squeezy eh squeezy ball ah poi lo spetta fermo fermo non ti muovere non ti muovere o una domanda sicuramente lo vuoi ammazzare ma no asp See come vadoveille qua? O setta letta Ragazzi c'è un dog voglio fare vosare una parola parla saletomi qualche mano l'ho ucciso in aria non so come mai più alleanza fra dog sei sicuro ma basta sto costruendo sto costruendo sto costruendo o ma va che stai costruendo e io adesso perveni a no 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 devo ricostruire la tua palestra portana indietro bene ti ho ucciso lui e non è colpa no l'ho ucciso io ah è vero no no ok salve 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 salvino stai impazzendo lo sai ho brutto squibito scrivito dai guarda se non mi vuole aiutare se muori mi faccio uccidere da te tutte le volte che vuoi sono salvo sono salvo sono salvo con quattro di vita tutto il fame che è salvo io tutto quello che trovo sparo ma che fai che è anche un gattino ma dove sta no 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 è brutto il fame quello fatto non è morto dopo non aveva fatto niente c'è chi è nata di l'alto livello hai anche cambiato zairo bravo gatto che ti accorci delle migliorie del riporto no 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 se l'ho fatta il cioccoletto ma parlate io faccio tutti e di fatto non ho mai trovato sono volato del fatto sbagliato a io babush babush si potrebbe risettare no questo il paradiso no adesso c'è più in testa come si può trovarci io sono 40 di vita l'ho chiamato che vedo no lo vedo buon pompa buosh babush volevo berci il bicchiere del gatto no ahahah qual è il bicchiere del gatto a quello che abbiamo noi ahio ho fatto un uvo livello e boom babush 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 come cavolo ahahah è tutta logica inversa no qualcuno c'è ma non si vede infatti infatti mi sa andare sulla giampa no ho visto il combattimento no oh non l'avevo visto a voi mi piace il nuovo a voi mi piace il nuovo zanetto che hanno messo gratis a me si anche ma è bellissimo è bellissimo potevano mettere pure reattivo però non lo so adesso babush babush sono pollo cecchilato cecchilato tutta la vita adesso l'avevo quattro l'avevo quattro l'avevo quattro di vita no adesso io vengo la e muoio da te sicuro che io sono la? no brutto e infame che tu ca... vabbè grazie per la tua base ma non c'è il che la offro gratis ai visitatori uno laggiù che non si vede e appunto mi fai spararlo se non ti vede boh cerco di spararlo ma non sai farlo? no boh questo è l'assalto di your dog arriveranno tutti i dog no no assalto di your dog statemi calmi per favore no ma dai io gli altri scarchi mi fanno volare in altre direzioni è sceso è sceso ahhh e io ti prendo ahhh 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 no ahhh 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 l'alberto oltre che anche il malattia la terribile farà mai e ci sono incastrato in un triangolo che riesco a uscire a parte ce l'ho fatta no peccato io lo vedo incastrato ok però in due vi state cercare tomas mi chiede pare ti vorrei amare ma sbagliare e mi vengono le cimici stavolta ho fatto io la provata oh ma se con lei mi ha detto eccolo tu a volte non so chi iscrivermi mi piace iscrivermi ma non so più che ma è per la tavola basta 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 e dai si è caduto no ho fermo basta 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 no adesso non lo dico basta ma te lo dico io come sei non lo dico o a perchè devo farli biorno ma 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 eliminato dal gruppo no perchè è stato espulso godo io questo Kevin sa sceltevolo sei pronto a essere no 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 che stupido a spalle subito beh lo stavo sporgendo bene scusa è venuto basta questo chiangolo buono provata basta voluto il provato io ho visto uno no basta basta io ho visto uno cadere chissà chi ha io vedo le cimollici no guarda io vedevo i coccodrilli ma dove state e a volte ti vorrei baciare il mio piccolo junior e sai dove state davvero madre ancora non capisco dove state ma dove state minchia ma uno è entrato sono entrate alcuni però io aspetta e se no e se noi a dog e se noi e se se tutti noi facciamo ti facciamo teaming contro tutti loro le strade ci sono strani ci sono strani a me mi vengono le cimici a me mi vengono le cimici a me mi vengono le cimici ma poi lo sei fatto ok raga unione tra o dog o dog e skin strana unione ma io io ho 33 di vita intanto intanto sono nabbi però se mi uccidono perchè ho poca vita infatti ho 33 di vita bella base ragazzi ok che vengono le cimici che benda verso l'alto io vado a pushare uno appunto tu vai dall'alto ok noi stiamo insieme ok ah no una thomas una thomas ma c'è un estrario boom per catturare il space è troppo easy lui lui costruisce bene ma è un nabbo di suo ma c'è solo lui? ah ah noi facciamo tutti contro tutti no 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 ho detto di no forse si no io si io sto grande la testa di Apollo ma no no ma io sono morto 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 ma sai Adesso dobbiamo aspettare la bollo, dobbiamo solo aspettare la bollo, sai perché tu ci sai perché devo andare, ciao ragazzi, ciao polletti, polletti, io vi voglio tanto fare polletti, ciao Diego buonanotte, e comunque Polpette se ci sei dovrei chiamarti Polpette 2, esatto triste se ci sei, dovrei chiamarti, dovresti chiamarti, detto triste, tu dovresti chiamarti, Polpette, polletto triste, ciao polletto, ciao gatto, ciao ragazzi, ragazzi al mio track scomparirò, 1, 2, 3, 3, ciao, signori fa troppo caldo, per questa sera, vi chiedo di, ci vediamo domani sera, gatto, basta stacco qua la live, non ce la faccio più, fa troppo caldo, poi domani mi devo svegliare presto, un saluto, ciao gattone, ciao a tutti, grazie mille per la compagnia, ciao, eh sì gatto, gatto stacco stasera sì, facciamo presto, ciao. Grazie a tutti.